Ciao india, sono Lorenzo e sono qui in Mumbai per la prima volta e volevo esplorare la città. Ho pensato che il miglior modo sarebbe la nuova e potente Aprilia SR150. Bellissimo! Mi sento davvero bello di rinforzare la potenza del SR150. Ho venuto qui non in tempo. La città, le persone, il posto, tutto fantastico e davvero bello. Ora un breve napo. Ciao ragazzi! Grazie a tutti!